Il 13 e 14 marzo al Teatro Consorziale di Budrio torna William Shakespeare e questa volta con Otello. Sì, è un ritorno insieme all'Arena del Sole, la nuova produzione, l'Otello con un grande artista che è Massimo D'Apporto insieme a Donadoni e alla Lavia e una lettura classica dello spettacolo ma credo anche estremamente efficace. Credo che nulla ci sia da raccontare sull'Otello, Iago ed Esdemona per quello che possa essere la loro storia, la storia che però rappresenta in qualsiasi momento, in qualsiasi tempo l'invidia del potere e quello che ci acceca la gelosia. I risultati non sono sempre molto positivi.